andiamo a vedere il presepe che hanno allestito benvenuti o bentornati sul canale oggi è il turn gennaio 2021 ultimo giorno dell'anno e ultima uscita dell'anno sto andando a recuperare massimo e andremo a fare un giro in valle olona vi ricordo sempre di se non vi siete ancora iscritti di iscrivervi al canale mettere un like se il video vi è piaciuto primo single trek riva fiume lona si può vedere il terreno ghiacciato e mani pure non è se sente un pochettino di calura è un minimo poi dopo un po di fermo aver mangiato vigilia natale e santo stefano si sente un po è vabbè infatti in questa salita qua si vede che è il pezzo ultimo pezzo del ripido perché si vede oltre a se vede si sente grazie Grazie. Un po' di panorama in mezzo alla campagna. Adesso faremo un guado asciutto. Questa è una certezza per il fango. Se vuoi trovare il fango devi venire qua. Anche nei periodi più siccitosi. Discesa per stare super attenti per la voglia di farmi male l'ultimo giorno. Altro guado. Ci fa in sella. Buona. Ora si risale. Questa è una cosa. Risa, risa ancora. Un planare per evitare il fango. Questa è bello. Un po' eh. Sì. Un po' eh. L'hanno spianata. L'hanno spianata. Perché c'erano dei passaggi un po' canalizzati. Sì. Un po' eh. Uonee. Un po' eh. Quello è di quello che c'era a Fontana, no? Non ciò? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Puzzine DH. Preparativi, abbassiamo la sella perché non si può. Tu l'hai già fatta. Io per me è una novità. Adesso andiamo giù. Già lo strapiovo sulla sinistra è uno spettacolo. Musica Bella tostina. Qua è bella sporca. Questa è un'altra parte. E' uguale. E' bella cassuta. Dopo la DH del Capuziner siamo sulla ciclabile della Vallolona. Direzione casa. Ultimo giro terminato del 2021. 40 km circa. Potete vedere la traccia sul profilo Komoot. link lo metto sotto in descrizione. Ci vediamo nel 2022. Ciao da Massimo. Ciao. 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 Ciao.